Musica Mattinata di rara intensità emotiva nella Sala Tinozzi della provincia di Pescara per l'undicesimo Galà della Solidarietà, iniziativa promossa dalla provincia di Pescara per premiare con il trofeo My Dream e il ristorante Zeng tutte quelle associazioni che hanno fatto del volontariato una vera e propria missione di vita. Sono state 33 benemerite realtà a fare passerella in diretta online sul sito del periodico Cronache Abruzzesi che ha dato il via all'iniziativa. Per premiare i responsabili delle varie associazioni sono intervenuti il presidente della provincia Guerino Testa, l'assessore Walter Cozzi, Antonella Palumbo della prefettura di Pescara, l'attrice Franca Minucci, Domenico Pettinari dell'associazione Codici, il vice comandante della direzione marittima Antonio Catino, l'assessore di Pescara Guido Cerolini, l'assessore di Montesilvano Stefania Di Nicola, il direttore di Radio Parsifal Luciano Marrone e il già procuratore capo della Repubblica di Pescara Nicola Trifuoggi. Tanto è stato fatto ma tanto ancora resta da fare e quanto emerso da una cerimonia che è risultato a occasione propizza per fare il punto della situazione sulle problematiche e sulle prospettive del settore. La provincia di Pescara ha anche anticipato l'uscita di un bando che metterà a disposizione circa 100.000 euro per incentivare l'attività del volontariato. Queste comunque le associazioni premiate. Unicef Abruzzo, Caritas Pescara, Croce Rossa, Misericordia, Fidas, Ladd, Agbe, Aism, Telefono Azzurro, Ail, WWF, Lilt, Asmo, Wildm, Ananche, Lega del Cane, Associazione Dog Village Montesilvano, Adricesta, Abruzzo, Associazione Diversuguali, Associazione Progetto Incontro, Aiutiamoli a Vivere, Missione Possibile, CIPAS, Associazione Insieme, Avuls, Val Pescara, Fratello Mio, Associazione Carrozzine Determinate Montesilvano, Protezione Civile Montesilvano, On The Road, Acli Seguimi di Popoli e GAL. È appena terminata la Maratona della Solidarità. Qui nella Sala Tinozzi della provincia di Pescara siamo in compagnia di Walter Cozzi che come assessore provinciale nelle politiche sociali ha promosso questo evento. Undicesima edizione del GALA della Solidarità. 33 associazioni benemerite premiate. Che mattinata, che giornata è stata? Una giornata intensa, emozionante, doverosa da parte nostra ringraziare tutte le associazioni che ogni giorno in silenzio si sostituiscono anche a compiti che sono delle istituzioni per dare una mano a chi ha bisogno. Credo che le associazioni di volontariato siano la parte migliore della nostra società e senza di loro quest'Italia sarebbe veramente molto molto più in difficoltà di quanto già si trova. Oggi è stato anche il giorno degli annunci perché lei ha annunciato davvero un bando molto interessante che cercherà di dare una mano alle associazioni. Sì, chiaramente per il lavoro che loro svolgono hanno apprezzato moltissimo il gesto nostro oggi di rendere loro gratitudine attraverso dei diplomi di merito ma è chiaro che poi hanno bisogno anche di risorse. In un momento come questo di piene difficoltà noi non possiamo aggiungere anche una crisi che è morale e allora la provincia di Pescara ha inteso tagliare non nel settore del sociale ma lì dove è ancora possibile. Certo le difficoltà ci sono ed è inutile negarlo ma in questo momento proprio abbiamo rivisto il menu delle priorità e abbiamo trovato dei fondi, non sono moltissimi ma sono circa 100.000 euro che saranno destinati completamente al sociale. Premiatore d'eccezione stamani in provincia la dottora Nicola Trifoggi undicesimo galà della solidarietà, che esperienza è stata? È stata un'esperienza bellissima perché confesso che non conoscevo tutte le 33 associazioni di volontariato che sono state premiate questa mattina. Molte ne conoscevo, ne conosco i responsabili, siamo stati spesso in contatto e quando è stato possibile abbiamo cercato di agevolarli personalmente o anche professionalmente. È un'esperienza bellissima, io mi sono sentito veramente onorato di essere stato chiamato qui questa mattina perché questi sono gli eroi della società moderna, una società che è in crisi non soltanto economica ma che costoro riescono a ribaltare con un impegno che va al di là dell'immaginabile. Sono loro le persone importanti d'Italia in questo momento. Dei tanti messaggi umanitari lanciati, cosa ha la sorpresa? Ma sorprese veramente poche direi. Mi ha impressionato, anche se lo sapevo, il fatto che costoro possono contare sempre meno sui fondi delle istituzioni di cui hanno bisogno di vivere. Lo Stato prima ha lanciato il messaggio che il volontariato era indispensabile per arrivare dove lo Stato stesso e le istituzioni non potevano arrivare. Poi piano piano, piano piano, piano piano, costoro viene sottratta la linfa vitale per poter operare. E non è giusto perché dei più deboli non ci si può e non ci si deve ricordare soltanto in prossimità delle varie campagne elettorali. Dovrebbero essere il primo obiettivo. Qualcuno ha ricordato che ci sono degli articoli della Costituzione che privilegiano il rapporto con le persone in difficoltà e che debbono essere riportate per quanto possibile a livello di tutti gli altri. Non mi pare che questo stia accadendo. In questo Paese c'è tanta solidarietà privata ma avrebbe bisogno di una grande solidarietà pubblica che ultimamente mi pare sia venuta a mancare. Si è ritrovato praticamente di casa Domenico Pettinari responsabile dell'Associazione Codici tra tante associazioni che hanno fatto e continuano a fare del volontariato la propria missione di vita. Undicesima edizione del Galà della Solidarietà. Come l'ha trovato? Guarda, io ti ringrazio immensamente perché l'ho detto, lo ripeto, quello che fai tu in questo contesto non lo fa nessuno. Se non esistessi bisognerebbe inventarti. Consentimelo. Perché oggi ho vissuto con grandi emozioni. È importante rivalutare l'operato delle associazioni perché le associazioni ricoprono un pezzo importantissimo che manca allo Stato. Cioè queste associazioni, le associazioni volontariato, che rimangono il più delle volte nascoste senza soldi lavorando in situazioni tragiche che solo i loro volontari sanno fare. Tu sei riuscito a farle emergere, quindi chi come me è impegnato ogni giorno nel volontariato ti ringrazio immensamente perché è un'opera esemplare. Il pezzo dello Stato che quotidianamente è composto dall'associazione è un pezzo che non si può disconoscere. Come è possibile commentare questa undicesima edizione del Galà della Solidarietà qui in provincia a Pescara? 33 associazioni benemerite guidate da tanto entusiasmo, da tanta passione. Franca Minucci. Sì, quello che poi si è sentito e si è avvertito era questa progettualità perché per ognuno di loro c'era un progetto in atto, un progetto in fieri e questo mi è sembrato un momento molto bello di questa manifestazione. Non soltanto il fatto che si siano incontrati tutti operatori del settore ma anche coloro che in qualche modo li sostengono, se vuoi, insomma come molti di noi che eravamo anche da quest'altra parte. Però quello che mi ha colpito molto è stato proprio questo, i progetti che avevano, l'energia che tutti loro in qualche modo emanavano. Una grande giornata, una grande veramente all'insegna dell'amore, all'insegna delle solidarietà. Io credo che il futuro degli uomini sia proprio questo, non ce n'è un altro. Il senso della vita è proprio questo, questo donarsi agli altri perché credo che non ce ne siano altri. Ma esiste l'esatta cultura della solidarietà oggi come oggi nella nostra regione? No, io credo che si sta formando come tutte le cose che sono a volte anche un po' difficili. Insomma si sta formando con difficoltà, io credo che in questo senso la scuola abbia un ruolo fondamentale. Io ricordavo prima che la scuola, la mia scuola in particolare con me, con un progetto per esempio sul presepe vivente che noi abbiamo fatto con il Don Orione, mi ricordo anni fa e ricordo ancora con grande commozione quella Madonna e quel San Giuseppe sulla sedia appunto a rotelle guidati da un angelo alle spalle. Mi è sembrata un'immagine che mi è tornata molto in mente in questo momento. Quindi i giovani devono essere assolutamente educati e avviati a questo grande percorso di vita che è il senso stesso della vita. Germano D'Aurelio in arte in duccio, conosciutissimo, molto amato al pubblico abruzzese ma anche nazionale, premiato per la sua associazione Fratello Mio, un aolus. Parliamo delle finalità dell'associazione. Guarda, io sono un po' in difficoltà perché... Una cosa seria questa? Sì, oltre che essere una cosa seria ovviamente detta da me potrebbe sembrare un po' meno. Ma anche perché solitamente il bene bisognerebbe farlo un po' in silenzio. Per cui io ringrazio Paolo Minucci che mi ha premiato però sembra... Ti puoi fare la levataccia pure domenica mattina. Domenica mattina. Però mi emoziona anche parlarne anche durante la premiazione. Perché poi una cosa che si fa un pochino con riservatezza diciamo in silenzio e conoscendo le sofferenze è difficile poi coniugarle al mondo a cui appartengo, dello spettacolo, delle luci, delle telecamere e dei riflettori. Comunque la finalità prima e ultima della mia associazione è aiutare ed essere tra gli ultimi. Questa è la frase fondante, la frase importante. Poi gli ultimi li troviamo un po' dappertutto. È uno spirito che cerchiamo di farlo diventare il nostro DNA di tutti gli appartenenti. Per cui ci troviamo in Africa principalmente come dato economico, come aiuto economico. Poi a livello morale, a livello anche fisico di presenza possiamo stare un po' anche in altre parti. per esempio nelle carceri, per esempio tra i ragazzi meno fortunati e tra altre realtà. In Italia c'è poco da ridere. Con la disoccupazione giovanile soprattutto e crisi economica veramente è un momento difficile. La comicità può aiutare a riflettere o è soltanto un modo per capire chi ci ha creato questi problemi, la cassa politica, i grandi speculatori? Sì, questa è un'analisi che lasciamo fare a chi ne sa più di noi. Noi riusciamo soltanto a cercare di strappare un sorriso che è già il primo volontariato. Giorni fa un articolo molto bello scritto da Paolo Di Vincenzo sulla discussione metteva in chiaro proprio questo. Il tuo primo volontariato, credo il primo volontariato sia quello di strappare un sorriso. Cioè la prima azione del volere bene al prossimo a chi ti sta vicino è quello di renderlo quantomeno un attimo più leggero dalle proprie pene, dai propri affanni. Sotto qui. Una maratona di solidarietà che ha visto 33 associazioni premiate, Guerrino Testa è presente nella provincia, c'era molto calore, molta voglia di stare insieme e di aiutare gli altri. Facciamo un bilancio di questa mattinata. Una mattinata positiva, una mattinata dove si è avuto modo di conoscere ancora meglio 33 soggetti, 33 associazioni che rappresentano poi la spina dorsale di tutto il comparto del sociale, del volontariato e della sussidiarietà. Sono queste le associazioni che costituiscono e che contribuiscono a migliorare il nostro territorio, a dare speranza, a dare un futuro migliore alle famiglie, alle ragazze e ragazzi che hanno problematiche anche importanti. Ritengo che mai come in questo periodo le associazioni di volontariato hanno un ruolo importante, fondamentale, io direi insostituibile. E quindi mentre prima le associazioni venivano gratificate dalle pubbliche amministrazioni, oggi è esattamente il contrario. Oggi è la pubblica amministrazione che ha bisogno e ha anche un bisogno abbastanza pressante del lavoro e della presenza delle associazioni. Quindi pubblica amministrazione e associazione deve essere un binomio inscindibile. Applauso a Paolo Minucci che organizza da diversi anni questa manifestazione per rendere visibile chi fa un lavoro così importante. Esattamente, Paolo Minucci da sempre ha dato il meglio di sé per quanto riguarda proprio il volontariato, ha dimostrato sempre una spiccata sensibilità per queste tematiche. Quindi ogni qualvolta c'è una manifestazione del genere non esiste miglior testimone che Paolo Minucci. Gala della solidarietà con diploma di merito a Gianni Cordova della LAD. Tante le vostre attività. Facciamo un breve riepilogo di quello che avete svolto nel 2012. Attività di recupero, ospitando ragazzi nella nostra comunità e attività di prevenzione rispetto a tutti i tipi di patologie, di dipendenze patologiche. Prevenzione che si attua soprattutto nelle scuole. Ogni anno incontriamo più di mille studenti nelle varie scuole di Pescara e provincia con corsi strutturati e siamo presenti nei CIC, centri di informazione e consulenza di cinque grandi scuole della città di Pescara. È molto cresciuta la cultura della lotta alla droga grazie anche al vostro lavoro. Cosa siete di dire a un giovane che si fa attirare con facilità da questo mondo? Direi con un paradosso che c'è un unico modo assolutamente sicuro per uscire dalle droghe e questo unico modo consiste nel non entrarci, né per trasgressione né per curiosità. Quello delle droghe è un mondo terribile che esprime una seduzione forte nei confronti dei giovani ma che molto spesso crea delle vittime molto dolenti, molto addolorate, molto piene di sofferenza. Incontriamo Domenico Capuccilli, presidente dell'AIL. Sono molto note le vostre campagne. Facciamo un bilancio del 2012. Sì, nel 2012, malgrado le risettezze economiche ben note a tutti, abbiamo portato avanti i nostri progetti di assistenza domiciliare, assistente a domicilio, circa 60 persone con un'equipe di 4 infermieri professionali e 6 medici e ematologi. In più abbiamo dato ospitalità presso la nostra casa AIL, nell'arco temporale che va dal 21 gennaio 2009 alla fine del 2012. Abbiamo ospitato 196 pazienti ematologici che sono venuti in cura in dei ospitali presso l'ospedale di Pescara e circa 360 familiari che assistono i pazienti acuti che sono ricoverati presso il Dipartimento di Ematologia. Incontriamo la psicologa Maria Di Domenico per l'ASMO, un'associazione molto attiva. Ripiloghiamo un po' quali sono le vostre attività. In prima battuta, la nostra attività è legata all'attività di sostegno direttamente per i pazienti all'interno dell'ospedale. Quindi ci sono i nostri volontari, qui c'è la nostra volontaria storica, Angela, che è una delle persone proprio più attive all'interno dell'ospedale. Loro sono gli angeli del quinto piano, scendono a piano terra, risalgono al quinto piano, portano letti, portano cartelle cliniche e soprattutto sostengono dal punto di vista umano i pazienti oncologici, oltre ai loro familiari. Ricordiamo il ruolo dei volontari. Lei che fa da tanto tempo questa nobile attività, il mato oncologico ha sempre delle grandi difficoltà nella fase di recupero, quando si può, nella fase terminale. Stiamo lì, portiamo i malati sopra e sotto, accompagniamo perché molte volte vengono soli, senza i parenti, allora diamo una mano a portarli a fare delle visite o delle cartelle. Quello che c'è da fare facciamo, non c'è qualcosa di diverso, è quello dell'ospedale. Cioè anche molte volte nel reparto, quando non ci sono i parenti, aiutarli a dare da mangiare. Questa è la nostra attività, nient'altro. Questa, la nostra Angela, dimostra proprio la semplicità e l'umiltà con cui lei da sempre aiuta questi pazienti. Perché loro sono veramente delle persone che sostengono, a volte non si rendono neanche conto, di quanto è fondamentale la loro presenza, soprattutto nell'ultima fase di vita. Il primario Marco Lombardo, oncologo, presidente della Lilt, può tracciare un bilancio positivo della vostra attività? Chiaramente quello dei tumori è un problema ormai non solo nazionale, ma globalizzato. Sì, tutto parte dal nostro Dipartimento di Oncologia di Pescara, dove appunto si concentra una grande quantità di ammalati oncologici. Da lì partono appunto le nostre due associazioni, l'ASMO prevalentemente nell'ambito delle attività proprio ospedaliere e la Lilt invece per la sua propria istituzione, a livello nazionale, a livello provinciale, la sua vocazione è una vocazione di prevenzione. Per cui le attività di prevenzione che sono state svolte quest'anno sono state molto molto importanti per due o tre motivi. A parte la prevenzione istituzionale che abbiamo fatto con le campagne nazionali, soprattutto la campagna per la prevenzione dei tumori della mammella, il nastro rosa, durante la quale abbiamo fatto oltre 300 visite e abbiamo riscontrato dei casi di tumore della mammella. Oltre appunto questa prevenzione istituzionale abbiamo sviluppato il settore di prevenzione nelle scuole medie superiori. Prima con un progetto Lilt nella scuola e poi con un progetto sperimentale fatta con la provincia di Pescara e la provincia di Bari. E abbiamo così formato i giovani come degli elementi che possano fare prevenzione nei loro ambiti, quindi nelle loro famiglie, nei loro gruppi, nelle palestre. E abbiamo istruito, fra virgolette, e formato circa 600 giovani. Non solo, ma Pescara ha elaborato degli spot che andranno sul territorio nazionale di prevenzione dei giovani, per i giovani e fra i giovani. Una battuta anche a Milena Grossoli, vicepresidente, sempre parlando di bilancio e di attività, cosa vogliamo dire? L'attività principale, l'attività che noi stiamo sostenendo adesso, è il progetto Vado. Cioè il volontario che va a domicilio del paziente. Questo è importantissimo perché aiuta in maniera esponenziale il malato. Oggi come oggi sappiamo che le istituzioni ci sono sì, però anche noi stessi familiari a volte siamo impegnati, siamo occupati e quindi il malato si ritrova da solo. Ecco perché arriva il sostentamento da parte della Lilt. E un'altra cosa importante è che sta per aprirsi finalmente il nostro ambulatorio nel territorio, che si aprirà in via Rubicone, numero 15. Sta cambiando la cultura per quello che riguarda il mondo dei disabili. Gianna Camplone, Presidente dell'Associazione Diversi Uguali. Ripiloghiamo un po' le vostre attività. Noi da circa dieci anni nell'Associazione Diversi Uguali, la quale mi onoro di rappresentare, ogni giorno ci incontriamo per dare l'opportunità ai ragazzi diversamente abili di vivere alcune ore insieme ai volontari. I volontari che rappresentano i giovani normali, cosiddetti normodotati, ma che in fondo poi la normalità non si sa mai da quale parte sta, perché tutti siamo diversi e tutti uguali. Io sono soddisfatta, mi sento molto gratificata dal fatto che in quasi dieci anni siamo riusciti realmente a dare a questi ragazzi diversamente abili una vita civile, l'accettazione del mondo, diciamo, delle persone normodotati, ha accolto questi ragazzi senza batterci, cioè nella normalità, non come si faceva un tempo, che si additavano e si lasciavano dentro casa, perché la società civile non li accettava. Questo è stato per me una grande vittoria. Appena ricevuto il suo riconoscimento Pino Datri dell'Associazione Missione Possibile, ripiloghiamo un po' quali sono le vostre attività. Grazie, è veramente un premio che non ci aspettavamo. Noi lavoriamo un po' in seconda linea sul nostro territorio, appoggiando associazioni ben note che operano ogni giorno con persone che hanno delle problematiche qui a Pescara. Poi il nostro focus è principalmente nei paesi sub-sahariani dell'Africa, dove da dieci anni portiamo avanti progetti umanitari focalizzati maggiormente sulla sanità e sulla cultura. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di hissare la bandiera di Pescara su tante scuole e tanti dispensari che in questi villaggi sono di vitale importanza per lo sviluppo della popolazione. Un appello a chi vuole collaborare con voi, per missione possibile? Siamo aperti a tutte le collaborazioni, in loco abbiamo una sede a Montesilvano, chi vuole contattarci abbiamo il nostro sito www.missionepossibile.net dove ci sono tutti i contatti per darci una mano per chi ha bisogno. Undicesima edizione del Galà della solidità di Pescara con Anna Maria Monti, Presidentessa, storico personaggio dell'Unicef. Facciamo un po' il punto della situazione. Che anno è stato per voi? Dunque, un anno un po' pesante, come penso che è stato un pochino per tutti da un punto di vista proprio di, fra virgolette, generosità, se la possiamo chiamare così. Però un anno anche molto bello perché ancora di più l'impegno dell'Unicef ad essere quello di portare nel giro di altri anni la mortalità infantile a zero. Infatti il nostro slogan è vogliamo zero. E devo dire che dall'inizio, quando incominciamo con l'Unicef nell'80, 81, veramente tanti tanti anni fa, allora le nostre scifie della vergogna era che ogni giorno morivano circa 40.000 bambini per fame, per denutrizione e per malattie. Oggi questo numero si è dimezzato e noi vogliamo a tutti i costi che questo numero diventi zero. Certo, per ottenere questo risultato c'è sempre bisogno della solidarietà. Io confido sempre nella generosità, nella solidarietà, in questo voler fare qualcosa per gli altri perché io credo che in un mondo come quello di oggi, se dimentichiamo anche questi sentimenti fondamentali, veramente abbiamo zero, ma in un senso negativo, nelle nostre mani. Come si apre questo 2013? Dunque, questo 2013 si apre intanto proprio con una, diciamo, grande, non saprei come chiamarla, ma è veramente un altro attestato di come la solidarietà ci sta vicino. Infatti proprio domani c'è una conferenza stampa anche qui alla provincia in cui presentiamo i tre testimoni al dell'Unicef. Lo ricordiamo. E sono, per la provincia di Teramo, grazie a Scucci Marra, per la provincia di Pescara, il nostro grande amico Mazzocchetti e per la provincia di Chieti, il maestro di Toro. Grazie a loro ancora una volta si è dimostrato come il mondo dell'arte, il mondo della musica, il mondo proprio della cultura è sempre più vicino alla sofferenza della gente perché la vera solidarietà non è dare così, io lo dico sempre, un'offerta per scaricare la nostra coscienza. La vera solidarietà è stare vicino a chi soffre. C'è le associazioni premiate, Carrozzine Determinate, Abruzzo, c'è Claudio Ferrante che ci spiega un po' le tante attività che sono connesse appunto alla vostra associazione. Sì, noi ci occupiamo della difesa dei diritti umani sostanzialmente, abbiamo fatto numerosissime manifestazioni anche quest'anno proprio per, come dicevo prima, la difesa dei diritti umani, quindi siamo abbastanza noti anche a livello nazionale per aver fatto manifestazioni anche un po' molto forti come quelle della difesa e dell'attacco se vogliamo a quelle che sono poi le barriere architettoniche. Ricordo che grazie a queste iniziative molto forti oggi il Comune di Pescara è accessibile, c'è un ascensore, Piazza Italia è completamente accessibile, così come abbiamo denunciato numerosissime strutture che, assurdo dirlo, oggi nel 2013 sono ancora inaccessibili come se fosse il Medioevo, compreso ospedale e strutture sanitarie. È chiaro che continueremo a dare questo contributo al nostro territorio. Fortunatamente siamo riusciti anche poi a sbloccare alcune leggi regionali, una su tutte che ci invidia un po' tutta l'Italia. Devo dire che da quest'anno noi abbiamo la legge sulla vita indipendente, una vera rivoluzione culturale se vogliamo. Stiamo anche sbloccando altre numerose leggi regionali come quella appunto, una su tutte, la 2008 numero uno, quella sull'abbattimento proprio delle barriere architettoniche. Da 30 anni impegnato nel volontariato e in attività molto importanti, immunitarie a livello internazionale, Tusio De Iuris con Aiutiamoli a vivere di quel presidente regionale. Facciamo un bilancio del 2012, è positivo? Certamente un bilancio positivo, malgrado tutti gli sforzi che dobbiamo fare di fronte alla crisi. Mi sembra ovvio questo, ma malgrado tutto questo noi ce la facciamo ad andare avanti. Dicevamo che il Comune di Pescara si è distinto per una nota positiva? Certo, è una nota molto positiva questa, è uno dei pochi comuni d'Italia, del sud voglio dire, perché nel nord hanno mantenuto questo impegno, di mantenere anche se ridotta la cifra per il volontariato per i progetti in Africa, in zona subsahariana. Ricordiamo le principali aree di intervento dei vostri progetti? Beh, ultimissima che abbiamo fatto, abbiamo mandato dei motori contro le infezioni per disperdere le infezioni, per disinfettare la città, Mogadiscio, quattro di questi motori, l'ultima missione fatta, appena finita, giù a Baghdad. Quest'anno, dico per l'anno 2012, abbiamo fatto circa quattro missioni in Iraq, dove siamo sempre impegnati sia all'Università di Lingua Italiana di Baghdad che per la città, per gli ospedali. Un novenoso riconoscimento all'Agbe, Associazione Genitori Bambini Mopatici. Massimo Parenti, il Presidente, ci riassume un po' le tante attività dei vostri volontari? Noi siamo impegnati quotidianamente con i bambini colpiti da leucemia e con le loro famiglie. Gestiamo una casa alloggio che ci permette di ospitare gratuitamente le famiglie intere che hanno il proprio piccolo ricoverato presso il reparto di onco-ematologia pediatrica. In più, li assistiamo con un trasporto, trasporto di casa, ospedale-casa. Questa, naturalmente, in modo particolare, dobbiamo dire grazie ai volontari che la mattina, anche alle 5-5 e mezza, vanno a casa di queste famiglie e li accompagnano in ospedale per poi riaccompagnarle a casa. Consideriamo che questi tragitti a volte arrivano anche a 200 km di distanza perché arriviamo anche a Campobasso. Di conseguenza, il sacrificio, io tale lo definisco da parte di questi volontari, è veramente tanto. Ma è pur vero che è la spinta che ti dà quella forza in più per andare avanti e capire che cosa voglia dire dare una mano al prossimo. Molto nota per le sue campagne in favore degli animali, Carmelita Bellini del Dog Village. Ricordiamo un po' le vostre attività del 2012. Ci occupiamo quotidianamente del benessere degli animali, ma quotidianamente, torno a ripetere, ci occupiamo di cani di proprietà perché sia la città di Pescara che Montesilvano non ha più randaggi e grazie a tutta la vigilanza, al controllo e all'ospitalità che diamo al nostro centro riusciamo a tenere ancora tutto sotto controllo. Perché questi cani vengono abbandonati? Perché c'è tanta insensibilità? Non c'è insensibilità, non c'è preparazione all'adozione del cane. Il cane è ancora considerato uno strumento per i nostri figli per far sì che loro possano relazionarsi con un essere vivente perché la mancanza dei genitori, diciamo che il cane prende quasi il posto. Un grave momento di difficoltà per le famiglie italiane, un doveroso premio alla Caritas. Con noi c'è Nicola Smigliani, uno dei responsabili. Tanti interventi avete effettuato nel 2012. Purtroppo sì, purtroppo questa crisi contingente economica, lo stato di disoccupazione non fa altro che accrescere i bisogni delle famiglie italiane. Sappiamo bene dalle cronache il fenomeno dei nuovi poveri, quindi famiglie che improvvisamente si trovano in stato di difficoltà economica e che quindi praticamente non sono nemmeno abituate a regarsi nei classici punti dove possono avere aiuto. E quindi la Caritas è scesa in campo anche con iniziative molto mirate a queste fasce di persone e soprattutto molto dignitose. Infatti a Pescara è stato realizzato già oramai dal 2010 l'emporio della solidarietà che è un supermercato a spesa gratuita per singoli e famiglie in difficoltà. E' il terzo esempio in Italia, oramai purtroppo stanno aprendo in quasi tutte le città italiane ed è un vero e proprio supermercato dove le famiglie in piena dignità e soprattutto con la libertà di scelta possono fare la spesa in maniera gratuita come in un supermercato. Sono dotate di una tessera magnetica come un bancomat a cui viene ricaricato con dei punti e il supermercato è stato creato proprio con l'intento di dare a queste persone dignità e soprattutto una speranza. Qui il supermercato ha la musica, le luci, la cassa, i carrelli tant'è che appunto possono tranquillamente fare la spesa in maniera tranquilla anche con i propri figli che adesso oramai è diventato anche un punto di ritrovo per le famiglie in difficoltà e noi cerchiamo perlomeno da questo punto di vista cioè quello dei bisogni primari quindi quale può essere l'alimentazione, l'abbigliamento, l'igiene della persona e anche qualcosa, abbiamo anche i giocattoli, i cartolieri proprio perché una famiglia è stato di bisogno e ha bisogno di tutto. Ma soprattutto cerchiamo non solo di dare qualcosa di pratico ma soprattutto di dare una speranza cioè far vedere a queste persone che sì è vero che c'è un momento di difficoltà però c'è qualcuno che pensa a loro, gli è vicino e cerca soltanto della speranza perché abbiamo appunto molti casi, i nostri centri d'ascolto, di famiglie che purtroppo la cosa fondamentale, la cosa che prima perdono è la speranza. Ma no, ma no Ma no, ma no Ma no, ma no Ma no, ma no Grazie a tutti.